Il nucleare iraniano, ma anche l'influenza di Teheran in Medio Oriente. Questi temi centrali della prima visita ufficiale del re Salman a Washington. Il reale saudita ha discosto con il presidente statunitense, principalmente di geopolitica, in quello che è stato letto come un incontro volto a sciogliere mesi di tensioni tra i due paesi. Al centro della visita anche il dossier siriano, sul quale Riyadh accusa Washington di aver allentato la presa contro Assad, a favore sempre dell'accordo con Teheran. Altro punto delicato dell'incontro, la discussione sullo stato del conflitto in Yemen. dove Riyadh e Teheran si affrontano indirettamente da mesi. E proprio contro il ruolo saudita nella crisi yemenita si sono svolti davanti alla Casa Bianca Kortei e Sitin. Dall'incontro statunitense tra Obama e il re Salman, anche il rinnovato sforzo comune contro i jihadisti dell'Isile e il rafforzo della cooperazione economica tra due paesi.